Guardate, vi racconto una storia. Quando in Giappone ci fu nel 2011, ci fu un terremoto nell'Oceano Pacifico che scatenò uno tsunami. Con quello tsunami ci fu una tragedia che vide più o meno 20.000 morti, più i dispersi e diverse città che furono distrutte. Delle città che furono coinvolte da quello tsunami, a me ha molto colpito questa storia quando l'ho letta, delle città che furono colpite da quello tsunami, in una sola non ci furono né morti né danni. Quella città si chiama Fudai. Nel 1967 il sindaco di Fudai decide di spendere l'equivalente allora di quelli che oggi sarebbero 25 milioni di euro per erigere una barriera anti-tsunami alta 16 metri. È stato linciato.